La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito. Ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così è meglio, a mio avviso, e credo di avere anch'io lo Spirito di Dio. Grazie per la visione!